è un privilegio per me che mi puoi dire che è tema già buonoci, è di due parti, è tema, cammino con la nostra studia, ayer acaba un parte di Saki, la nostra vita studia, ayer toccante di e e pica e tambi e forma con Saki, come si ha desarrollato nel mondo e è ribellion che andalano a vol, satanassone e ave, non stava in seguida di due parti di qual devo ayer, di come Dio a permeti pa' maldad desarrolla nel mondo a qui. Ho bebiato, ho davvero, davvero bisacchio, Dio è un Dio di amore e siete un Dio di amore, di come torno è la permeti pica nel mondo. mi rimanano, mi chiede pa' bocor, pagate insomma ave, perché ho penato con il Bible, ho scritto pa' bocor, anotato il coso, passina cu' bocorrisi, vi è gran bendicione forgele a Saki, a mia messa guardo bendicione, mentre tanto, come stava, c'è un chiede in altro, che mi ande a ave non stava studia, alcun punto sumamente importante, e t'ame non stava in touch e parti co' e mandamento nan co' satanass a quibra conè tenxelo, ok? Qua t'avata è mandamento nan co' di abel a quibra conè tenxelo, e siete lo che t'ame conoste vai tratta unto avetardi, mi rimanano. Ora, la che non stava iniziando con il Bible, anà a se ora sono avore e cava, non stava abriendo la Palabra di Dio, la Palabra di Dio, il suo giro del Santo Espirito, però il primo testo che non stava iniziando a avetardi di San Juan, capítulo 10, ok? Van con me den Juan, capítulo 10, non stava iniziando a avetardi di San Juan, capítulo 10, non stava iniziando a avetardi di San Juan, versículo 7, te cu Gesù, ok? E ora ei, Jesus avolve di Sanan, di verdad, di verdad, mi tabi saboso. Amita è porta di e carmena. Turco abim promecumi taladron, e hortado, ma e carmena non atende nanan. Amita è porta, se un gen dredentador dime, e lo ta salva, e lo dredenta, e sale, e rai a yerba verde. E ladron tabim solamente pa hortam, pa mata, e pa destruir. Amita abim, pa nantim vida, e pa nantim ne na abundancia. Amita è bom guardadò, e bom guardadò ta duno subida, pa e carmena. Ok, ok, ok. Na versículo 10, se non è paraceto, na versículo 10, Jesus sta a fare referenza a un ladrón. E ladrón, Jesus te visa, e la bimpa, horta, mata, e destruir. Outra palavra, distrucciòon. Ture è matamento nan, violenza, pandemia, ture è costan, ture è caos nan, quando tu manda il lugar, tem il planeta terra, a qui del universo miro umano, da bimpa di diabo. Ok? La sombra, Jesus sta a mi, a mi, qual è, siendo Dio, sto papiando qui nang, a mi abim, paduna, patin vita, e patin, ne, na abundancia. Anto, eto visa, ku eta, e bom guardadò, anto, si su carne, nan, scucha, su bos, nan lo, dren, ta den, e cura, e nan lo, ta un tou, ku un guardadò, e assina, torco, nostra, sigge, Jesucristo, è un verdadero guardadò, nos lo, timpida, tenge. Amè? Amè. Que me andi? Láganos, paraqueto, lo, che conoscere, in grado, pantai, nostra, mira torco, why does God, alou, sofrimento? Di com, Dios, a permiti, sofrimento. E così mi, te queda, clave, a we tardi, pabocormira, ku ag, sofrimento, destrucxion, matamento, violenza, tristeza, tur, e cosnang, e abim, pa causa, di erraiz, ku yama, diabol. Ok? I epica, ku diabol, a fomentar, den mente di, eva, eva, tene, da logico, colebra, bisse, conseqüentemente, ela, desobedecer, dios, e, apeca, e, tur, e degrada, xong, tur, e cosnang, conosta, mira, den em mundo, aqui, abim, pa causa, di, desobediencia, verba. Ayer, a nostra, studia, com, satanás, tabatatim, algo similar, denxelo, ni un campanha, politico, ah, que ben, ela, intenta un golpe, nosa studia, contra o gobiarno, di dios, ah, uniendo su mes, den su mentira, nan, na ganya, e angala, ok, e angala, anha, decididi, abandonan, a lugar di biba, nan, a uni, de rebelión, co dios, tam, nosa mira, com, esaki, aque, e totalidad, 100% de humanidad, do di, adam, co eva, ok, tam, nosa studia, mirumanan, co, dios, ta amor, un, amicubo, e tu resser, nan, dios, a creia, tin, libertad, propria, nan, tin, facultad, propria, pasco, e nan, propria, si, ok, paso amor, nota, obliga, ni amor, no po, forza, ok, dios, daduna, cada quien, libero, alberdrío, ayer, nosa terminado, Deuteronomio, capítulo 8, noto, ahora, nosa studia, Deuteronomio, capítulo 8, nosa lesa, versículo 1, deco 17, camina, botamira, dios, ta papi, cu so pueblo, pisando, si, bo obedecemi, ok, botim, mi bendición, pero, si, bo desobedecemi, maldición, ta anda, cu, nosa studia, si, claramente, ok, que, dios, nota, pasa, por alto, e, consecuencia, nan, cu, ta bini, si, nos, co, pa, e, caminda, di, des, obediencia, mi romano, ok, pero, ave, lo, que, nosa, be, estudia, tesan, nosa, be, estudia, cu, tabata, e, mandamento, nan, cu, satanás, y, su, ang, lan, akibrakune, den, selu, corra, bom, den, selu, satanás, osa, sudia, den, et, tema, anterior, que, tabata, un, querubin, protektor, ok, botokara, kiko, satanás, akibrakune, an, Claro. Ela, akibraku, kiko, akun, su, botokara. Ela, akibraku, ocho, mandamento. Ah, pero, nosa, na, den, anteriore, ku, nosa, studia, nosa, dios, ok, mandamento, nani dios, si, no, nosa, desarrolle, se, da, mato, a che, era, pero, nosa, un, desarrolle, solamente, noste, paraketuna, ku, satanás, tabadun, kerubin, protektor, eta, tenku, protekar, e, lei, divino, e, lei di dios, ok, e, diez, mandamento, kual, nosa, mirai, ieri, de, revelación, capítulo, jesun, versículo, jesnueve, ku, juan, amira, den, temple, a, e, e, arka, e, den, arka, nosa, toku, botanya, e, alianza, e, pacto, de, alianza, kwal, te, diez, mandamento, tabadun, awar, quata, batat, e, le, nang, botakere, ku, satanás, e, kibrakune, panos, po, kuminsa, wak, wate, le, nang, satanás, kibrakune, nosa, bai, wakiko, e, le, nang, e, diez, mandamento, e, moral, di, di, ta, kondene, quata, e, diez, nang, ei, lagannos, kwe, nos, bai, ma, den, exodo, kapitulo, binti, exodo, kapitulo, binti, mirumana, stima, nostre, lesa, versiculo, tres, teku, geshete, ok? Exodo, kapitulo, binti, ana, versiculo, tres, teku, lagannos, kuminsa, fordi, versiculo, uno, ok? e ora ei, dios, apapia, ture, palabra, nan, aki, visando, amita, senyor, bo dios, kene, asakabo, fordi, teera, di, egipto, fordi, e, cas, di, esclavitud, bono, martin, otro, dios, mi, dilante, no, tra, ningun, imagen, grabar, pa, bom, mes, pare, na, orato, versiculo, tres, e, dos, teku, tre, tam, mustra, non, se, prome, mandamento, right? E, prome, mandamento, do, bisa? Bono, martin, otro, dios, mi, dilante, se, lo, no, tin, otro, dios, dilante, prome, mandamento, prome, mandamento, do, bisa, lo, no, tin, otro, dios, clai, letra, mi, dilante, di, dos, mandamento, versiculo, quata, no, tra, ningun, imagen, grabar, pabu, mis, ni, nada, semejante, na, lo, tin, arriba, de, selo, ni, abo, riba, tera, ni, den, awa, bode, tera, no, adorana, ni, sirvina, pa, sombra, ami, senyor, bo, dios, ta, un, dios, si, a, luz, kende, da, vish, ta, iniquidade, e, tatanang, riba, e, yunan, riba, e, di, tres, i, di, quata, generacion, di, esnanku, ta, odiami, ma, kende, ta, mustra, misericordia, na, mil, nam, na, esnanku, ta, stimami, i, ta, guarda, mi, mandamento, na, ese, ita, mandamento, numero, dos, lo, bo, no, tra, imagen, ok, y, adoranan, paso, a, amita, senyor, bo, dios, kende, asa, cabo, for, di, egipto, imita, un, dios, y, al, urs, na, tra, imagen, y, adoranan, bota, poniendo, otro, dios, 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 di, lantir, lo, ste, van, pedi, tres, mandamento, versículo, shit, no, usa, en, nomber, di, señor, bo, dios, en, van, pa, sombra, senyor, no, te, no, castiga, es, un, usa, su, nomber, en, van, porque, después, después, de, teman, aquí, ahora, nos, nos, desarrollar, cana, llegana, en, mensaje, de, tres, angalan, den, ya, webs, ya, vierne, aquí, con, nos, estudia, nos, vai, nos, to, che, tam, den, el, tre, ya, domingo, pero, mi, te, para, que, tu, na, camina, beba, te, teme, dios, ok, e, palabra, teme, dios, ei, bota, bin, ca, ni, de, tres, man, na, mente, que, bosa, quanto, rende, te, de, de, tres, man, mente, que, tur, dia, tur, dia, ro, di, nos, te, mi, vai, estudiar, ahora, que, kubo, so, aquí, se, no, te, tema, pero, hope, di, nos, mi, rumanan, te, kibra, cu, et, tres, mandamento, aquí, tur, tur, dia, ok, con, nos, no, parando, kieto, na, je, pero, mi, te, vai, estudiar, después, kubo, so, de, di, este, tag, anto, beba, te, te, si, bo, faya, kubo, faya, tur, ok, de, tres, mandamento, de, bisa, nos, ana, no, usa, et, nombra, di, dios, kiko, embano, ok, segredi, mandamento, di, quattro, mandamento, por, da, dia, di, sabato, pa, santifique, seis, di, bom, tra, y, ha, si, turbo, tra, bo, ma, e, di, sete, di, amén, que, men, versículo 8, te, cu, jesu, ana, tam, mustra, nos, e, di, quattro, mandamento, quattro, ok, dirigí, na, di, di, prome, quattro, mandamento, non, da, dirigí, na, di, 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 se, sobrano, da, dirigí, na, bo, pro, imo, ok, e, de, cinco, mandamento, que, devisa, ok, que, de, cinco, mandamento, devisa, honra, botata, i, bom, mama, ok, e, de, seis, mandamento, versículo 13, no, mata, e, sette, di, seis, mandamento, no, mata, dicete, mandamento, no, comete, adulterio, dicete, mandamento, doviso, no, comete, adulterio, di, ocho, mandamento, versículo, de, cinque, no, horta, ok, de, seis, mandamento, de, mandamento, sorry, no, lanta, testemunio, falso, contra, bo, pro, imo, ah, tremendo, no, lanta, testemunio, falso, contra, bo, pro, imo, mandamento, tá, cento, de, nove, e, último, mandamento, de, diez, Tremendo, Tremendo, me tebe, assim, pergunta, me tebe, se, pergunta, me tebe, abre, mic, diz, rato, assim, aqui, diz, be, parte, aqui, para, 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 se, pergunta, me, que, para, três, ainda, contestar, me, se, oa, que, nosa, studia, diez, mandamento, to, isa, bom, man, ora, que, bota, vai, contestar, si, para, nosa, do, na, bird, me, ke, bo, men, sonami, quate, mandamento, nan, kubota, kere, kuh, diabola, kibra, i, angela, de, diez, naki, ok, la, nosa, kenda, desa, yadi, ah, isa, suman, man, por favor, a, bliv, miti, ma, escuche, pregunda, un, bes, quata, e, mandamento, nan, abel, i, e, angela, a, kibra, kune, den, chelo, ok, dal, bay, nomapem, desu, sosta, bai, pa, et, mirabo, kere, bisa, algo, desu, bes, ok, ok, bai, con testa, diap,- si, si, me ta contesta, se si, me ta conta, com ma, no kudishi, ecco, ameta, esse, elas, me ta conta, con ma, ne men deta-, no kudishah, o kudishah, si, o kudishah, poishah, che non ti dice, la Dio te vende. Ok, ok. Grazie, mi romano. Agnes. Sì, è il mandamento che la Kibra promete che non ha un altro Dio mi delante. Terno. Anche te dice che è di 2 camminare la Kibra che è sabato. Sì, è il mandamento che è la Kibra che è sabato. Ok. Dicò il mandamento che è la Kibra che è sabato. Sì, per esempio, in altri studi camminare con la gente non va adorare solo. quindi la Kibra che è la Kibra che è la Sombra. Invece di che la gente non guarda è sabato, è la adorare solo perché non è che è la domenica, è il giorno di solo. è il giorno di chiusurare sempre all'interno. Sì. Ci sono che ci sono le persone che che è di l'interno. Ah, ok. Ok. Poi, non è stato un grande difficile che ci sono Weekendoli che è la Kibra che è vero. Allora, Ah, mi te pisa, è la qui perché sono buoni ti machi di otro Dio, di l'indilanti. Anto mi te vai che sono adorani sirvi di... No sirvi... Non, per sombra ammi, signor, bo dio, stondio sirloz. Anto che sono lasso, no cu descia. Solo qualche lasso, no cu descia. E tre, se ne mi te pisa. Ok, ok. E tre, se ne mi te pisa, è un manamento non. E tre, se ne mi te pare, sicuramente quello che bravo. Tremendo, tremendo, ok, dà anche, mi romana. Ok, ma mi sono tre persone, però la che non so, 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 la che non so. Ultima persona? E mi chiamano? Ah, mi chiamano, mi chiamano? Ah, Shani, sì. Sì, non ho visto un par bom, però è un comitamento anche, ma la principale classe, è il numero 9, è un falsetto testemunio contra Dio. Sì, 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 ok. Tremendo, tremendo, tremendo. Danke, mi romana, danke, danke. Ma pensa se è da, per me direi ben di tre, sì, 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 sì. Ok, ok. No, a voi non sta bene? Tu cha abisca di EF? Aham. Si bo qui braco, un ba qui braco tu. Aham. E se tu, che dice. Tremendo, 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 ok. Però a voi, che non sta bene qua. Aham. Noste bene qua, passo. Qua raccoglie è 10 mandamenti qui, in una tabla di piedra, 10 punti a guardare di una sinai, right? Però a voi non sa che è stata da existire qua, ma è il fondamento di Dio subito. No, se stu dire qua. Però a voi, è punto che non sta. È mandamento non con Satanà e è angola che vergognate in cielo. 10 punti. Non dovrà? Però mi ti studia 8 mandamenti specificamente che o diabolo che vergognate in cielo. Ok? Non sta bene studia. Na prome lugar, Satanà e è angolan, non ascohe pa bai, of namico è angolan, non ascohe pa bai, contra di Dio, e di forma aki, non aviola è prome mandamento. Fa se è prome mandamento da Bisa Nostra, lo bo non tin otro Dio midilanti. Non ascohe pa bai, Dio, si non ascohe di pone Satanà come non Dio, e non akibra è prome mandamento. Cosa bisa, lo bo non tin otro Dio midilanti. L'abbiamo qui, Udas, versicolo 6, orato? Udas, versicolo 6. Nostra seconda turcos, la Biblia. Udas, versicolo 6. Ma che Biblia ti dice che non? E' angola che non guarda la mia esposizione, ma abbandona la mia esposizione, e la tenere una cadena eterna di oscurità, per il vizio di un gran dia. E' angola che non ascohe, mi romano. Nang ascohe, e' angola che non guarda la mia esposizione, non ha disidico non ha che sige Dio's mas. Ok? Nang asigina kiko. Cos di ken? Satanà. Yes. De forma, nasi kiko, pone otro Dio's, coclei nella letter, di lante Dio's verdadero. Ok? E di e' manera aki, nan akibra tambe, direttamente ku e' segundo mandamento, na' inclinanan mes di lante Lucifer e Andreele. Ok? Sighiendo asini denge rebelion, junto ku' Lucifer. Lago nos kwe' revelasho, non se kwe' imbià, non nos kwe' to' connos por, pone esakhi, como texto di lo kwe' con nos d'bisa. Revelacion, capítulo 10, versículo 7. Qua con beibleta yama, e' dragong ki, e' su angalang. E' te bise? Kwe' te bise? E' tabata tinggera denxelo, Miguel e' su angalang tabata ha siggera contra e' dragong. E' dragong e' su angalang tabata ha siggera i' nang no aprevalese i' no tabata tinguga mas panang denxelo. Ok? Beibleta bisa, Miguel, waltane su Cristo, i' su angalang. E' beibleta bisa nos, e' dragong, ku' ta' Lucifer, di'abal, i' su angalang. Kwe' ma esnaan ku' a inklinanang mes, i' honraking. Di'abal mi'ruma. Ok? Awor, Beibleta bisa nos, ku, nang akibratame, nang atransgredi, edi cincu mandamendo. Di'kong? Passo, nang kreador berdadero, tabata ta, nang, passo, nang kreador, tabata ta, tanto kreador, i' alabes, tata. Nang unico, tata. Pensei, edi cincu mandamendo, tabisa nos, to' honraking, o tata i'bomama. Pero, edi cincu mandamendo, di'e angalang akitabatatakeng, di'os, kemen, tanto kreador, i' nang tata, edi eterno, tabatatamiruma. Ok? Kemen? Noste mira claramente, ku' nang aviola, edi cincu mandamendo. Kwan mandamendo, noste intabai, k'nang aviola, gaba, tres. E' promen mandamendo, lobo notin' otro dios mi dilante, edi dos mandamendo, tamen na' viole, a dor di, a honra satanaz, na' creun' imagen, di'un otro dios, pone, um, otro dios dilante di dios, ok? Na' viole di dos, edi cincu mandamendo, tamen na' viole, di'on pa sombra, dios, e' soberano, ta' tanto kreador, i' komo, nang tata, ok? Awor, na' cuestionar, e' angala in satanaz, a' cuestionar, dios, i' su autoridad divino, ok? Declarando ku, dios, ta' injustu, na' haci, e' seimirumanan, nang aviola, e' tercer mandamientu, tambe. Otokora, to'a kiede' tercer mandamientu, to'bisa? Lopo non bencionar, nombra di dios, en vano, ok? Nang adesonrar, edi tres mandamientu, nang adesonrar, nombra di dios, ok? Anto, d'quadro, nang aviola, e' tercer mandamientu. Awor, Jesus, avisa nos, den San Juan, la ganozco, e' textu, i' San Juan, capítulo ocho, versiculo cuarenta y quattro, Jesus, a declarar, ku, Satanás, tabatata, un matado, fuori di principio, i' alabez, matado, eta un ganjado, tambe. Que men, si Jesus, a declarar, e' palabra, nai, Satanás, a viola, direct, i' e' angalan, tambe, dos mandamientus. E' textu, gizò, non stai, e' la viola, dos mandamientus, ok? Versiculo cuarenta y quattro, boso ta, di boso, tata, diabol, i boso, kerasi, edeseo, nam, di boso, tata, et tabata, un matado, fuori di principio, i' notapara, den, e' verdad. Pa sombra, no tim, verdad, den, jay, di oraku, e' papia, un mentira, eta papia, fuori di sumes, naturaleza. Pa sombra, et' un ganjado, i'etata, di mentira. Quanto violacion, non stai, quanto lei, non stai, non stai, non covardo viola, detexo, miro mar, quanto, 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 mandamento, non stai, detexo, que so, con satanás, a viola, e' angalantame, naturalmente. Dos, dos mandamentos, jesu se llame, tata, di mentira, que me ta gaia, i'etum matado, que ben? Ela transgredi, e' di seis, e' di nueve, mandamento, miro mar. Non stai, wakna, 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 satanás, i'su angalang, atrata, di, podera, bai, baltabisa nos, den, isaias, jesquater, di, etrono, di dios. Sorry, na atrata, di, ita, etrono, di dios, of, tuma, etrono, di dios. Okay? Na atrata, di, podera, di, e trono di dios. La conosco è, texto è, den, isaias, capítulo, jesquater, volvi, come un miamaz, versicolo, jes treze, jesquater. Isaias, jesquater, versicolo, jes treze, jesquater. ma, vota, bo, abisa, den, bo, cura, zon, lo, mi, sube, nas, selo, lo, mi, has, mi, trono, mas, hatu, ku, estrella, nam, di dios. E lo, mi, sinta, riba, e, seru, di, asamblea, na, e, parte, nam, mas, retirada, di, no, lo, mi, sube, mas, hatu, el, turan, di, e, nubia, lo, mi, has, mi, mes, kosko, altissimo. Okay. Si, mo, mirabone, text, ki, et, bis, nos, e, dos, mandamento, nan, de, tex, ki, ku, satanasi, ang, lati, berbule. Okay? Dor, ku, natrata, nan, tatine, deseyo, di, podera, de, trono, di, sa, ki, yama, mirumana, kudishi, of kudisha, i horta. Kauwake? Kameg, nan, akkibar, nan, avviola, ed, ocho, ed, di, diez, mandamento. Nosa, wakke, oore? Ndeberat? Awe, gran, pregunta, desaki, paso, den, studiate, nan, nosamira, nan, avviola, ocho, mandamento. Kontakumi, e, prome, mandamento, naviola, lo, bonoti, otro, dios, midilanti, e, di, dos, mandamento, nan, vioola, ok? Logo, no, adora, imagen, ni, honre, ni, adore, e, ang, lan, adora, satanás, na, pon, otro, dios, dilante, dios, creyano, ima, propio, cual, di, 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 già in noi abbiamo 6 mandamenti e in Isaia 13 e 14 noi stiamo mirando il trono di Dio e non c'è il trono di Dio ricorda, mia umana il desiderio è andato di cura Gesù avisa che non si tratta di come si tratta di adulterio secondo il concetto è un'altra cosa, è un'azione ma si tratta di un desiderio ma comete adulterio significa, fanno una desiderio una kudisha e disiderio di quita il trono di Dio è un'altra va a che? come si tratta di una cosa, è un'altra cosa per vi abominare ad perché il Dio ha avuto un odio contro Gesù la morte del mio coração non c'è il trono di Dio sottocontano lo che non c'è fabtrato di mente ma poi c'è il trono di Dio No stai? Qui non stai, mira, 8 mandamenti che il diablo e il anga che seguono in sua ribellione qui, bravo, ne? Ora, è il primo mandamento. Il primo mandamento è di Exodo 20. Il primo mandamento è di qui, bravo, ne? Il primo mandamento è di qui, bravo, ne? Come ti mostro, il Dicone è di qui, perché il primo mandamento è di qui. Exodo 20. Il primo mandamento è di qui. Il primo mandamento è di qui. Il 2 mandamento è del versicolo 4, viene il versicolo 6. cioè il 3 mandamenti è delle ablaze. e di quattro mandamento ok versicolo 8 versicolo 12 ok versicolo 12 e di 5 mandamento ok 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 e conseguentemente 5 mandamento e di 6 mandamento jesus mesabise que satanás matador foi principio ok e un gaiador e di 6 mandamento e di 7 mandamento e di 10 tampouca saque nao por aqui dos mandamentos nao por aqui tem cheiro ta e di 4 mandamento quarte sabat e di 7 mandamento quarta no comete adulterio agora e di 8 mandamento na quebroucunea posso na quera orta esta danza e di 9 mandamento tambe na quebroucunea ok se seita guardo considera como mentira ok e kudisha tambe qualta e di 10 mandamento e pregúntate e pregúntate di com passou tem cheiro promego ser humano guardo creá no tabata tem diferente sexo nan ni sagrado institución duná pa dios que ama matrimónio ok no tabata existir e coi denxelo ok pa bom comete adulterio bom me cita kiko bom me cita ca dor com pa bom comete adulterio bom tim pa bom viola di 7 mandamento bom cita ca ca of drum com hende com nota of drum com hende com nota boca sa non stai que man dici denxelo no tabata existir matrimónio logicamente non por aquí porque dici tem mandamento bá ké a wén motivu taku mi rumanan angle no tin e facultad di reproduci paso angle no tin gesla manera ser humano jesús sabise cose di doy de le lagami que text pavo capítulo y versículo ok jesús avisa en quanto saque mi rumanan den mateo capítulo 22 relacionat tambien kushelo relacionat kushelo i angle jesús explica e consegui doy de lok pa nós banque den mateo capítulo 22 ana nostalesa nami mire kinana versículo mire kinan mateo 22 matthew 22 versículo 28 30 take a look wak kia tivisa anto de resurrección da esposa di kual di esyete ng elota pa sobranan tur tabo dati e komo esposa wak akina nang es saduseo na acerca esus saduseo nantende nang ku unta ta kere de resurrección ok anto nanta acercai esus untra esus di mes un 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 kwa muri etata kasa awo datata ten un sistema ku ora kubo kasa muri e erumane tingo kasa kubo kasa kubo kubo e nana ki saduseo nana kida ta puntra esus de resurrección kua te kasa jeson kii tabai tem casamento kama de resurrección tabai tabai sigi siendo kasa di e persone de resurrección nanta puntra esus jesus te contestan e palabra nana kita kualta day to look pano espir humana 29 ma jesus te contestan y avisan nana boso te kibuka ok boso te gran kibuka en kwan te sun de kii boso no kumprande sun kibuka jesus sal explica na e palabra prum boso no kumprande e naturaleza ni voluntad di dios ni asunto matrimonio di den sel boso no kumprande koi bo ok jesus dico boso ta kibuka boso nota kumprande escritura nana ni e poder di dios oh anta kare se kini di bastante gos versículo 30 pa sombra de resurrección nang nota casa ok nita wardo dun pa casa ok ma nanta manera angal den selu alright ok jesus ta komparar ser umano ku angal kual ta den selu kaba papanje angal santo kini stanku no peka stanku no sige de rebeliou stanku mantenen a lealtat na dios jesus ta siendo referencia na ser umano qual si dios aduna e institución di matrimonio kibou di batera kina nan pa napora reproduzir traiu kuture kuna i nantera ok ten selu unda tem necessidade kose kose dios unduna e angal e e e parte di matrimonio e dios unduna na koi kame nosta mira kina nam miruman kwe sus di kunan pa sombra den e resurreksion nang nota casa nita wardo dun napakasa kame nita vai casa ni wende tampoko de resurreksion kong jesus avisa nang nota comparando kiko angal kose romano kwa nos nota vai ser casa ni casa mas den selu nosta vira yunan tur ir rumanan di kristo den selu yunan di di dios ir rumanan di jesus amen kame hindi jesus di man nanta man nera angel den daminar un text mas man lucas capítulo 20 versículo 34 36 tremendo mil humano ostasi un esudio exegético akinaran profundo en quanto el gran pecador nang di diablo y su angal ok lucas capítulo 20 ana versículo 34 tecu 36 y a palabra di jesus avisa ok para que tu ne detalle se kinnan pa se pregunta nang ta nana jesus ta si boles 32 et apisa por ultimo emue tambe amuri anto de resurrección e esposa di cual din lo et pa sombra tu xe te tab ta tine como esposa anto jesus ta contestar jesus avisa nang e yunan di es siglo a ki tem mundo aqui ta casa e ta wardo dun pa ca sa versículo 35 ma es nang wardo considera escucha bom digno patim parte den es siglo ei e den e resurrección ford di morto nan no ta casa ni ta wardo dun pa casa pa sombra nan no por muri mas tampouco pa sombra escuche bon nan ta manera kiko angel ita yunan di di dios siendo yunan di resurrección tremendo mi rumana kiko e angal kiko tendenzial wawra ki kiko mantene na lealtat na dios e no a uni de rebelión kiko satanás si e otro angal e nang tayunan di dios amen e po kiko otro parte nan di scrittura tambe kiko bibl ta menciona e se e otro mundo nan kiko no a kai tambe ta wardo considera kiko yunan di dios si adam kiko eva tampouco no a peka tambe lo a sige siendo yunan di dios pese awora kita dor di jesucristo nos tinkwanya e poder beak babira yunan di dios dor jesucristo su sacrificio amen keben aqui nosta mira ku e motivo di kong nan por akibra ku e di sete mandamento kual ta adulterio ta pa sombra amen akibra of akibra den shiluku e di quater mandamento mirumana transgrediende sabat santo ta passou escuchami bom e sabat no awordo kreya ainda hey pisa se passa algo por alti na ki momento dado sabat awordo kreya segun nos baby ki momento dado sabat awordo kreya mirumana eh sabat awordo kreya to den e ciklo semanal di sete dia to dor go dios a sose ga riba e dixete dia dios e dia pese dia pere santo tam dor de sosego di dios pere sant 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 pere un uso sagrado e apart ok kremen den selu mirumana prome kreya shon di mundo nan non tabata por awarda e sabat ainda hey ainda di kong pa e et kou e sabat awardo institui pa e especii e raza humano ko dios atraha despues di ediseis dia nan kreativo minumana ok tapese jesus a proclama e palabra nan akina marco dos bintisiete pwembo biblurato lagano os man waksie text kita bisa algo en quanto angle of ke sabata pa ser humano marco dos bintisiete ana e el abisa nan sabata poni pa hende y no hende pa sabat e not abisabu akina nan sabata poni pa angle y hende of hende y angle lang ak e text abisabu in kwante e e e e disk tishon of e shu kwe sus ad dil kone ke fariseo nan ak jesus diku nan sabata poni pa keng hende y no hende pa sabat ok na inglese tabi sabo the sabat was made for men ok mirumana awor ku siguridad nos mestre bis siku tabata ting den xelu tempo nan defini di adorasyon pe angala ok prome ku kreashon me stame prome kreashon di bund baso el leita el leite eterno di dios de vera pero e descanso semanal si e e descanso semanal sabat iku ta ligam mirumana na ser humano e na e ritmo semanal kame di nos planeta ter bau wak ora kuh dios ta ki momento dada keinasis capítulo 2 keinasis capítulo 2 versículo 1 te 3 la nos leza versículo 31 di capítulo 1 capítulo 1 versículo 31 dios amira turlo que el atraja y ata turkosta batamashabon dios akabikreya de verdad dios akabikreya el akreya turkosa turkosa ta perfectamente bon antombra edi turkosa ta bon perfectamente e e ben batabisa nostra de quantos dias itabatatah de seis dias itabatatah a tarde e mehinta e de seis dias capítulo 2 versículo 1 3 3 a sombra o una versicula ok, tremendo, sì ok ok pode ser, no sapas, un detalle por alto, con versiculo 3 e ora e parina, con te comisar e ora e que momento dado e ora e e ora e e ora e versiculo 2 e riba e di 7 dia ten ciclo semanal e di 7 dia dios acaba su trabou cu ela se desce eso este beitzu dice que profundamente so pobo pisarmi ok, da 2 via dios acaba su trabou o so, na versiculo 31 di capítulo 1 eta bisa cuela acaba turcos gelatra ok pero wana versiculo 2 bota mira eta vuelve bisa el acaba su trabou desce eso estove estudia se bota miro e sabate firma di dios ora bota un ora ora un pintor pinta un un quadro sin e eta pinta quadro mas bonita cada un dia pinta el quadro ah eta la pinta su scello con su paro ma ian kujio schemi pinta el palo ah el man e piscana en jes sin eh bota que tiki tiki pero ora bota patras dala sin que pinta quadro ok bota contempla contempla el quadro pinta contempla ecuadro sin anto ecuadro falto un costo a flora lago lago dira ediseis dia dios acaba que creacion dira el acaba que quadro el pinta creacion perfectamente dios dala un tap atras mira que quadro queda perfectamente bon de gran manera pero el quadro falta algo ana dira tur dira tur quadro de uke bon de uke arriba bota mira algo bota mira kiko firma de pintor e no está firma de pintor para vos saque saquita dedicada a argenias de costo gomes pintor aqui argenias de costo gomes la pintena ayat al edad bombo era ni bombo vai vendê tampouco e quadro original e firma de riba jibombo falsifiquet tampouco o di abel a falsifica e die gizik dori vai trati pon un otro firma bopo ni mas kiko as nese ciclo semanal ni e ni e scientifico nampo bin clatico di sete dia nampo bin clacone ma aqui na nostra mira kaba versículo 2 e riba e dixete dia dios acaba su trabou el asi e riba e dixete dia el sosegá di tur su trabou el asi e ora ei dios a bendicionar e dixete dia e a santifiquet pa sombra e dia ei el a sosegá di tur su trabou ku dios a creia e atrā tremendo miro mar pam exodo capítulo 20 murata si pa nos pomira ku es sabat awardo asi pa ende pecei dios tabi sase kiko tra seis sosegá edi sete dia capítulo 20 versículo 8 de jesu for da dia di sabat pa santifiquet seis dia bu ma tra i asi tur bo trabou ma edixete dia sabat di senyor bo dios riba edia ei bu ma riba edi waram riba edia ei bu no ma ha se ningun trabou ni abo ni bo yomber ni bo yuboe ni bo sirvido o omber ni bo sirvido mu ni bo bacana mi esun kutakeda biba pa un tempo ser kabo pa sombra ten seis dia senyor atras selunan etera la man y tur lo que tinden an ok ya so se gar riba di sete dia pe senyor abel di sabat y santifiquet un det text qui tibabou ben la creacion la creacion la genesis la genesis tibabou de verat mi romana que aquí aquí nos comprender bon clarku e angalan satanás e angalan no por aquí para que mandamento aquí den chelo pa sombra tapaya especie humano e ser humano dios a creia e sabat marco dos 27 tibisa nos no verat até sabat aguardo creia den es siman de creacion no ste pero ma mencionar acabo e angalan taba tati na momento non nán tempo nán defini pa adorar dios si ten chelo e tá constantemente nán tá vivando adorando dios tamé amén amén ahora desde que é especie humano a cair tem desobediencia mil humana contra a palabra de dios non sei que diabla assim diabla a provocar pa quibra e ora especialmente dos mandamentos nán aqui ados manamento nán non si bo wak bun denture diestan ados nán diabla ti mas rabia riba dite di sete anto ke di quata bo sad ikon paso ados na impura anya pe kibra nang denxelo kibra ocho denxelo pa to lo ke kaila as e abing ados na per raza umano ah et mas furia tabari manan tabari distruí matrimonio tabari si ebarco o cristo nota neti monje barque o de curaçon cristo nota sentar ibe trono de curaçon aio aio omir romano anto kielase kisaba den storia nosa mira iko el waa trata di skondi ed ed quatra mandamenti completo trata di tapé completo completo pone un dia un firma falso putajah domingo boto kum kuku kanto rabia e furia satanás abaha riba e espécie humana ki anto oro kuna kai denpikah pa kibra e dos mandamenti quarte di quater quarte dia di sabat pa santifiqué anto kuk ed sete mandamenti non comete adulterio wako e mundo tabibando end enta casa nanta biba pa biba kuk kus na kioves nang kasata comete adulterio kuk drumik kuk end ipon a maleza kuk civiliz kuk age kuk 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 katana sht yend den matrimonio nang kuk 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 un giorno è bello, un figlio di colpa un giorno è un messaggio è costante c'è un momento quando si è bello e si è bello e si è bello 10 10 con il ladrò per matare, rortare e destruire satanassu fò che sta distruire è noto buon amico è distruire è distruire amico su alma miro umano se non arrepentire non ci stai 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 pensi miro umano non ci stai per comprender che il diabo ha un odio maggi maggi grande contro due instituzioni se vò miro buono è due instituzioni qui c'è un bendicione speciale di Dio si vò d'armi matrimonio e sabato vò capite? è matrimonio e sabato da due instituzioni santo e divino che Dio si vò stabilisce matrimonio se vò mira buono Dio 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 aduna Dio aduna particularmente è è ser umano è matrimonio da verrà è di 6 dia creativo e è sabato è di 7 dia creativo da verrà lucifer miro umano e su demoi na trata di destruir turmanera e dos indistruzioni divino nato provocare e ser umano di che per quebrano anche qui non miro vò 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 con Dio è matrimonio è unione escutate è matrimonio è unione perfetto e santo entre chi? un hombre e un mujer è sabato è unione perfetto e santo entre e essere umano e suo creador pese il diabo odia la relazione santo e funcione e non non c'è lei con è matrimonio è unione è di Matteo 19 non è unione per è unione perfetto e santo che è estabilizzato entre hombre e mese e sabato è unione perfetto e santo entre il ser umano e il creador di con diabolo non che è vincolo qui non che relazione qui non è unione come è matrimonio non è unione essere umano in quanto è sabato ma va che abbiamo unione di c'è unione luce spiritual ok e and l'an c'è come si come demonio non be l'an spirito impuro non è west spiritual di maldato e il sistema con diabolo è operato per distruire e possere di curva non passi maldato di ma cara di dere se guarda in effetti rapidamente so quanto tempo non stin che vengono per termina avessi sin nabe parte qui come vinta guanta basta bobaia van rapidamente di effetti non capitolo capitolo 6 versicolo di 2 con pablo l'amma e angla l'angai versicolo 22 che ti viso contro che non luchano contra carne e sangue è dire ser umano sino contra il governante non contra il poder non contra forza non mondiale di oscurità atti contra e forza non spiritual di maldato den e lugano celestiale che men bau contra lucha tagli nan ta contra demonio nan kakai ghi pablo si referenze dj e angla lankai kakonverti den demonio ta contra nan el lucha principale anto botinko comprende kutai hende ta posee di demonio ta pese i bombo binkla di koe nye da tratta sina di koe la di koe la mate di koe la orte di koe di koe et homosexual si bont st koe koe bont binkla kekoy bost bota bbisa to bint kombro de koe pora tra un u o o w bero o min bort kombro de koe to un u e maia anto a hore et ta to t homosexual mese tan to lesbiana d si mi binkla koe koe ta demonio no che si tratta di posizione di persone in sua cura ma che pensi che Gesù sia per liberare non miro quanto milagre Gesù ha per liberare perché il demone non si tratta di posizione in sua cura perché non si tratta di avere non si tratta di avere un demone che si tratta di guia il Spirito Santo non si tratta di non si tratta di giù mille di persone cientos di persone perché il Spirito Santo non si tratta di giù il demone che si tratta di un 性 giù ma che si tratta di quello che si tratta di perché il lavoro non sta contra ilاسale in particolare ma che contro il governo contro il poder il suo sovrenature contro l'amia mondial di scuridat qui contra la forza spiritual di maldad del lugar celestial del universo che ti goberna per l'umana non ti faccio la calamità e non ti non ti ti non ti non ti non ti escapa non ti escapa mi romana quizás d'anchelo dios non vi mostro quanto via escapa quanto via ti via non ti per questo conteo se non mires ricorda quanto via dios escapa di certo peligro o certo malezza o accidente aceita aceita leu foi contestando non ti 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 prometo basali case quanto via come perché tu dios protejanos gloria na dios 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 ten misericordia di nostri in mundo con nostri vivanti efezio capítulo 2 ana Di poter di gloria. Ok? Eta Pablo te mencione. Di espiritu cuta obra. Pabonbisa cuta argenis avisa. Pabonbisa argenis va a bisun co. Però minta quere con yuene ta posee. Unta demoi ta si conai. Va kebebo da visa. Di espiritu cuta obra avorna onda. Ten e yunan di desobedece. Ten e hende eta. Eta tuma posizion genesu curva. Tuma posizion di su mente. Controle la geasikos deskabea. Nostai? Eta yunan di baibo te muestra nos. Varios caminatame mirumanan. Den relato nan di persona nan. Ku tabatata endemoniana. Ta posee yipa demonia nan ku. Deskwez Jesus ta tingu liberaran. De verdad? Jesus ta tingu liberaran nan fote demonia nan. Nos kuebe vorbe. Namiko eun. De Marco 5. Marco 5. Versiculo 5 e 6. Rapidamente. Marco capítulo 5. Versiculo 5 e 6. I constantemente di dia e anoche. E tabata grita. Mei meide etumbanan. I deia serunan. E tabata golpesu curpa. Korte ku piedra. E ora ku ela mira Jesus jaleo. Ela corre bine a peito na suela sudilante. E gritando na voz alta. Ela avisa. Kiko me tendiasi kubo Jesus. Yudi e dios altisimo. Mi te rogabo pa dios no tormentan. Ok. Aqui tem demonia papi si. Aqui tem demonia. Rumam ba yi mira. Kiko nos talese aqui. Kiko nos talese aqui. Kiko nos talese. Kiko te tenana. Ami a yega di mira. Kiko demonia. A papi. A mi dilante. Mi rumana. De enterramenta. Untra un bosco. Nota gente. Mi dilante. Anto mi pobisabo de experiencia. Kiko mi propio familia. Mesma experiencia a cose. Kiko aqui entado. Ropi serio. E cose que ta. Kiko nos talese. Kiko non bi. Ta tem bebel. Ta historia ta. E coita. Ya. Ta un cuente ta. Non, 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 non. Mi rumana. Wax. Nos tengo comprendeno. Kiko e angalaki. Ainda na no wardo cadena. Ainda na no wardo cadena. Ainda na no wardo destruir. Tanto ku na no wardo destruir. Na no wardo ponen na cadena ainda. Ta toma. Mananta toma posisyon. Di curpa di hende. Ora ba kere. Kwe rodas. A lagamate yunan. Ta ken ba kere. Ta tatatras di erodas. Diabal ta tatras di erodas. E dragong ta tatras di erodas. Pase tetragong que lagamata Christo. Nostou comprendeno. Onde non sta amirumana. Ora bo kere. E ene nan e isi stai. Kuta mata yende. Toba sa que nante grita bisa. Den am. Qua me lenguaje trobe. Um. Arabis. Arabis. Allah waqba. Den nomber di dios. Den nomber di dios. Matayende den nomber di. Den qua dios. Den nomber di dios. Kuta kuta. Kwe fai princípio. Susa bisa matatou. Den nomber di. Den nomber di diabol. Den nomber di diabol. Den nomber di diabol. Pasota diabol. Diabal da ibatabizetata. Gaya do. I matado. Forti princípio. Amen. Ok. Versículo 2. Wako ta spiritu impuru. Beba te bisa nos. Ta ta ta. Denga ombra ki. Na. Marco capítulo 5. Wako ta spiritu impuru. Versículo 2. E cosna kita serio mirumana. Nanta mas serio. Que lo que uno sta maginato. I ora kuela saali. Fordi e boto. Me soa un homber. Con un spiritu impuru. Asali. Fordi e tumbana. Pin kontri. Kemen. Ten e hombo ana. Di un spiritu. Impuro. E ti otro cammina beba. Tabi sabu. Legión. Legión tamasku un. Ok. Ta demoyo nan. Deku. Para ke to yun. O nakita serio. E. Babel tabisa. Un homber. Kospiritu. Impura sa libing. Contri. Anto. Na versículo 7. Bo ta mira. Akin na. Anak. Te demonya. Ta papya. Ku. Kristo. Paso. Eta bise. Kiko. Mitin. Giasi. Kubo. Reconociendo. Ken. Cristo. Yu. Di. Dios. Yu. Di. E. Dios. Altísimo. Mi. Ta rogabu. Pa. Dios. No. Tormentami. Es decir. No. Distruimi. Eta bise. Asta. Hasta. Nami. Reconociendo. Te demyamos. Kiko. Babin. Distruimos. Prometo. Tempo. Fafto. Otro. Camina. Não. Te demyamos. Akin. Te demyamos. Te demyamos. Seguimi. Camina. Te demyamos. Kabin. Distruimos. Prometo. Tempo. Lesa. Ocho. Versículo 8. Passou. Para Jesus. Tabata. Becer. Abo. Espiritu. Impuro. Sa li. Abbiamo detto che ci sono un po' più male e non fanno un po' più grande. Ok? Sì, il secondo me è stato qua, non? Non, non, non è. Oggi mi racconto non è stato un po' più grande. E lui mi racconta con un po' più grande. E lui mi racconta... Mi nome è legione. Per la nostra giù. Un po' più. C'è un po' più grande. E mi racconto non è un po' più grande. C'è la legione? Cantità. Hopi. 6.000 della legione. Mi tengo a studiare parte. Sto da studiare. Ok. Si vuoi mirare buon, si vuoi le sette gestire, Anna? E questa anche? E lei ha cominciato che ma sia hopi messe per non mandare un bai per la legione. E lei ha detto che c'è una truppa grande di porco che ha comuto. E il demogno ha raggiato e mandato il porco per non daremo. E lei ha permesso che il spirito ha imposto a sale, ha raggiato il porco. E la truppa di porco abaixa la carreta fuori di eva e va dalla mano. Più o meno 2.000 e ha raggiato la mano. Quanto porco quanto porco ma sono meno 2.000 vero? quanto legione quanto legione quanto secondo il testo quanto porco ma sono meno ma sono meno 2.000 6.000 ok, tremendo perché la Bibli dice non so che non miro ma quanto demone è curpa che è possibile come è cosa che è possibile che spirito ma 2.000 6.000 legione 6.000 spirito impuro è curpa è un si non non la Bibli non so comprendere mi romana ando bebe dice a noi è demogna che rogo a Gesù ma vai da porco ma ti ho comprendere che demogna sta guardando tormenta se non ha possesso di qualcosa è tormenta su mess se non ha qualcosa per controlla è tormenta su mess ando se è logico di passare con Cristo ma so bebe dice è morto non sta dormire e sta tormentando durante mil anni e questo è stato ben distrubito per completo qui non sta mira non so un text Lucas capítulo 8 versículo 28 Lucas 8 28 mi miraginaram mi miraginaram ehm hmm Gesù di Dioz altissimo mi terrogavo non tormentano ok ok versicolo 27 ma ti miraginaram co bebe ma ti miraginaram c'è tabata posei pa demogno non verà aqui no se mira bom clamir humanan co di Dioz di Dioz di Dioz di Dioz di Dioz Ademais, è cubri la sua verda identità per engaia a gente. Ok? Ademais, quando è sembra una duda, è cubri la sua identità anche. E' bello che pare sia come un angolo di luce, ma è un angolo di luce. È il principe di scurità è che cubri la sua identità verdadero per gai al ser umano. Ok? Nunca miro umano satanass non pareci su maniera età. Non ti ricorda es aquí di parte di colebra antigo di palo e non pareci su mes come satanass sino la pareci su mes cambiando su identità verdadero matriculizando 30 e colebra antò è ora ei pagania Eva di verrà popolese di Génesis 3 1 antò 2 Corintio Nang Gesù versicolo 23 e 24 di 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 apareci su mes come angle di luz 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 e 4 versicolo 9 però c'è anche la mia humana certo aparentemente duda e anche non lo avisa Dio è veramente giusto la sua legge è realmente è la sua è veramente è vero è veramente è santo giusto e buon maniera il Signore è vero maniera ti imparazzi che vedi Romano 7 e 2 e che hubo Lucifer e stava da tem razza Dio sta realmente amor come è tratta sua criatura e è pecador è è ci stava dren da parte se è duda che aparentemente lo queda di anga non anche c'è tutto il tipo di preguntano qui tor di maldà non stava compro che Dio miro manano per permitire il desarrollo e madurez di maldà un un solo bia solamente di storia un solo bia lo sapete Kiko pa aclara e duda nan e pa tur e ser nan crea compro de e anga l'an santo kuno a peca kuno a uni e tame e mundo nan kuno a cai pa nan po compro de e consekwensia di maldà dos cos dios tabbe asi aclara tabbe se la permiti maldà desarrollar de mundo pa clara e duda nan akiko aparentemente akeda kizaz den e angalan su corazon ok nami kue un ilustracion simple pa nos po compro des akiko la gamos bisa tin un pareja ok un pareja kutabata tin un un jardin mas bonita mes un jardin precioso ok con flor nan mas bonita mes de tur tipo ok pero un momento dado un palo strano ta cresce mai mai di flor nan ei bonita den jardin ok e hombra tabi sabo sa kita pasa no e planta akiko un planta maligno eto mala yerba ato yerba ki eta vai distrui entere jardin e hombra te bisa ok y mi esteran que yerba ki esteran que planta ki pero woi muet tabi sa ku lagile paso e planta ki ton planta maravillosa ton planta bonita quizás le sirvi pa algo bonita derdi pero hombra hombra dici di ku mit ranca e planta ki to mit ranke korbo e planta surgi e mata a surgi elas crece pero ainda saca fruta ainda e no a desarrollar e no madur pa po sata ki tipe planta ta keta bon of keta malo boto veze te volg me mi romana a si e hombra ranca e planta ranca e palu kua crece ei sin kela desarrolla sin kela saca fruta kiko lo surgi de mente de mue kiko lo surgi de mente de mue ha e muelo haya duda do vera pos hombra ranke planta si hombra ranke planta eri de pisa wato keng tin rasson awo keng tin rasson tam y o tabo di kong ranke fei chiki boto lagge crece pa no spu wato keng tin rasson e rasson botanya sa ora lagge crece ora boto ranke fei chiki boto ikum kama e ori nion wende lo nota batata sa keng tin rasson si of no kut em wato ombr o ombr dici di dira keng planta fei keng em em sembr lobisa mita sigur mita sigur eh koe planta elu tabat un planta prezioso kus em mire planta crece pero ombr lobisa am no mita sigur koe le tabat un ruina perdi le distrui e ruina kore bom e ombr su palabra em mire su palabra pero nyun tinang bonopo sako tin rasson pa sombre mata awordo ranca fei chiqui e aki nos o comprande mire humana di kong dios a permiti e desarrollo e alaga maldad madura den nos universo pa aclara turcos mire humana pa nunca mas maldad brota e sali den historia de universo ok dios bai bat bisa no tabai permiti nunca mas ni errama ni errai vis di maldad sali nunca mas del universo malakías capítulo 4 nami nabe text aqui ten duro na dje pa sombre aki nosto comprande di kong dios a permiti maldad desarrollar den mundo pa aclarar tur tipo di duda bo no ye gite kong en landa bis sab kino landa mes a ku si botin un dios di kong sofrimento di kong maldad di kong pobreza na nota comprande di kong dios a permiti pa maldad do desarrollar pero bebe de bisa no su nunca mas dios lo vai permiti esa kisoso de malakias capítulo 4 versículo 1 pa 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 sombra mira e dia tabin elokima manera forno mira pa sombra mira e dia tabin dios da bisa ku elokima manera forno escucha bo e tu regende na arrogante e cada asido di maldad lo tabagas e dia ku tabin lo sende na na candela e senyor di ejército nan tabisa escucha bo asina ku ninang raiz ninang rama lo no ke ni raiz bosa que raiz kita diable ni rama nan kualta stan ku uni den rebelion ku satanas dios ta pisa bebe te pisa nos kuj dios ta wai elimina pa sempre e kuj te den su raiz dios te elimine raiz di maldad ta diable dios ta elimina e isu rama nan kualta stan ku a sigi den rebelion ku satanas mir humana eto bom la gami context mas pabo demes un context di isikiel kamina nos leza isikiel 28 epikako surgi den satanas aqui ok isikiel nos leza word versículo capítulo 28 anton nos leza ana versículo 69 just destrui e raiz aqui completo que te pisa turco conoscevo ente en as shonan ta queda tur babuka pa bom motivo bo habira un horror e logo no te imas pa promesa dios ta primi ti que te vai eliminar raiz malvada que guarda diablo nunca mas le vai existir nunca mas dios te elimine wipe por completo pese y beba te bicicleto no vai ti morto más ni sufrimiento más ni lágrima más ni dolor ni tristeza ni amargura tur e costan promes a pasa beba te visan nos e aqui não nos compre o caminho do Senhor Jesus avisa com na sua fruta lo bo no se kiko e palo seja com fruta bom ou fruta malo pese beba te bis versículo de 5 até 20 Jesus te bis bom clai nan com su ac no nep malo su fruta bota sa ki tipi paleta si bo no alaga e palo cresce no combo posa ta ki tipi fruta bota ikumi combo posa si bo no alaga palo cresce ta ki tipo di fruta eta produzi non sto comprender dios mister a permitimi rumanan pa em malo pa maldad e su fruta cresce e madura pa kita tur duda non fu di su karakter pa vindica su karakter pa limpia su karakter qual satanas a tratta di cambia karakter di dios cambia dios su lei cambia naturaleza di su goberna shon pone dios ta vordo mira come un tirano eh come un dios cuta castiga cuta eh cambia e karakter per se dios ha permiti maldad desarrollar pa mundo entero eh universo mira eh mundo nanko no a kai eh angalanko a mantene na dignidad na dios na lealtat na dios mira co 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 amico kreia bozo tin razoon diablo non tin razoon eta e malbado pese ma permiti dilaga e cosa ki desarrollar pa si dios la eliminar satanas foi principio e anga non no bisa u pa di con dios a eliminar satanas si ela kreia hende kou facultat ies ser nan kou facultat pa eh em facultat propio voluntat propio pa 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 opción onde berá liber albedrio e palabra mi te buscar di kontoc eta eliminar iko dios tindi skonde na lo pensa aún mas di algun duda kou porta biba dina mente dan lo pensa di kou kou bo si satanas tira so aunque kou ta et kreador dios kreador pero di kou el eliminar el wipe el quita di kou satanas sabi koi kisah satanas tira so kisah lucifer tira so e angal e kor bon teta ta si eno score teta ta para dilante trono di dios teta ta cuida pa diez mandamento di kou dios a eliminar dios a permiti mero man estimar maldad desarolla pa kita turduda pa hende e angal e mundo nan kou no akai por mira keng tin razoon e keng no tin razoon pa nan por mira ku dios ta santo justo verdadero e bom amen e nan st amir umana nan sto compron dpc bebe te bis no svo b eskiver text men galata 6 versículo 7 8 amind bebe te bis no sku lo lo kebo planta seita wardo cosecha ok e eso sabisa na e fruta bota conoce que tipo paleta ok e bonopo sa que tipo paleta a menos sorry que tipo di fruta e palo ta produci a menos que palo crece a menos que palo desarrolla non sto compronendo mire umana que men e duda nan nan a comienza kita for di e ang lansanto y universo mientras ku nan tabata contempla e fruta nan y e desarrollo di maldade de conflito cosmico ora nan amira e morto cruel de di 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 calvario for di nan ya casi tur duda kita cava di nan nan pora mira ku di di verdaderamente ta justo pa sombra wa ki ko maldad a kosa e yu di 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 nan e duda nan pora kumista kita for di mente nan e e mundo nan kuno kai pece i beba tabisa nos den revelación capítulo 16 ok versículo 5 si versículo 5 te kuxede escuche bo esakito lo kito wado proclamar den shelo waki babel de bici kina i mi atende e angel di awan an tabisa ustubot ta kende ta i kende tabata o abo e sun kuta san pa sombra bo awus ga e cos nan ak rictamente wak dios tin kule kui des arro ya pa e mundo pe angal proclamai palabra nan ak bak er tap pa loko nan proclamai palabra doro na mira com gusto dios ta com dios ta verdadeiro su justicia nan ta wardo a si de recti tut han pese nan pupisa gusto bota o senyor o javé kende ta i kende tabata o abo esun kuta santo pa sombra bo ah husga e kos nan ak versículo 6 pa sombra nan adrama e sangar di santo nan e profeta nan e bo aduna nan sangar pa bebe nan ta merece e saki e maldade kwa desarolla e ang lang contempla e kosa ki o mundo nan kuna kaya contempla kosa ki ok i pese nan po proclama e palabra nan ak mirumana i versículo 7 tabisa nos i mi atende e altar tabisa si o senhor dios todopoderoso verdadero e justo tabu viste o tremendo verdadero é carácter di dios vindo completo pese bêba também se nós de revelación jesuáter 6 e 7 também que hora de su vicio a llegar é hora de dios su vicio su carácter tem que vindo limpi vindicabek dor de mancha com satanás que era temple de carácter e lei santo de dios mirumana estimar aqui que angela proclam aqui verdadeiro e justo pota po vicio nanta senyor se gloria mirumana estimar senyor se gloria aqui nos tem un vista un estúdio profundo un exégesis non se chame cose qui da griego un estudio profundo do vordo nombrá como un exégesis un estudio analítico profundo para nos compro de di con di permiti maldad desarrollada en mundo mirumana ok e si vos mirabona génesis 3 de 5 e sermón profético justamente después de caída de adam e eva de namp pica com diosa bisac e descendência simbolicamente que nan espiritualmente na versículo de 5 de bisac quarta e representar e yunan de dios e tam de cristo jesus kende tabai plecha e cabez di 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 e raiz ok in an guata mirana genesis 3 de 5 dos descendencia yunan di dios quarta quarta caibou di yu e messias yunan di dios y bote descendencia di yunan sigi satanás qual spiritualmente yunan desobediencias nantata da diablo beba debisa nos de vera y si bo wak bom into que genesis 3 5 pavo pas no esto me termina pero mi que termina rapidamente que parten aquí si pavo cu e promen profecia aquí tabisa cu e descendencia di emu e lo distruí e cabez di ecolebra pero ecolebra beba debisa nos da genesis 3 5 lo herida e il chipia di emu ok e descendiencia ave descendiente colobin eta distruí cabez de colebra kualta 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 dragón satanás anto esusta e mesías kualta descendencia di emu e si bo kue na hebreo nangos kue hebreo nan capítulo 2 a kualta lo kual kumpli ten cristo na cruz di calvario y lo kuk genesis 3 tabisa hebreo 2 10 4 simbolicamente sa ebreo 12 4 kia tivisa asinanto como kue yunan ta comparti ten carni i sangar emestambe emestambe papiando di cristo emestambe a toma partina emesso manera asin a cupo medio di morto e por a distruí esun co tab da tempo der morto esta è diabo simbolicamente aqui nada devera e beba de bisa no stame co e descendencia di cristo di emue tam belo asin sa ora cun asin ta jesus jesus don an autoridad e poder pa pleccia simbolicamente e cabez di 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 romano capítulo 16 versículo 20 mi vacu mi poca text rapidamente pavo rome conosco termina ya nos sa termina que tema aqui ave pa nos posi que é de tres tema otro si man di su poder romano 16 ana versículo pinti nostre les mente e cabez di satanás ne cruz di calvario tor di su morto e su resurrección em mesum poder e autoridade sus adun estango da seguir pasou na genesis 3 de 5 bota mira dos descendencia dos simia simia jem ue tem jem a el linaje cota bincay ten na cristo e ayudan di 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 nos co acepta esus e descendencia di 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 nus por mira mil humana cuna e cruz e il chipia di cristo award herida simbolicamente per esak notaba datar un daio grande pasou esus a ressuscitá for de morto na biblia de miseroso morto no por atenebal di sud min es decir victoria di cristo riba pica e mundo e tentador tabata lo que as so de simbolicamente na cruz e muy pronto ora que diablo es raíz de maldad eliminar completamente ora ei es obra de destruir e machicar e cabeza de eculebra lo completar totalmente amén 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 corintio nán diecinco un corintio nán diecinco cu onda morto onda va queda onda va puita ah amén nos lo no vai sufrir morto más nos lo va en culpa inmortal de inanan e cosa que profeci quilo alcanza su cumplimiento totalmente mi humana estimada si e para nos terminar no está mira que na genesis capítulo 4 versículo 1 8 vamos a historia de Abel e Cain aqui é o primeiro representante de dos descendencias aqui está para Cain e Cain ve genesis 35 eu estou para pedir 12 semia pero forte bem e unan de Adam dos descendencias cobrando forma daba ok ambos alanta un altar na dios para adore ambos abel un carnet según institución según ordo de dios Pa' pordone di non pica Non beba di bisognos Però Cain è un altro romano rebelde Qui Ha? Dice di di fare Lo che che laia è buono Dice di ofrecer Lo che che stava da qui Dice di treze frutta e verdura Vegetazione Quale vegetazione Mi romano Nota il simbolo Del sacrificio di Cristo Pa' pordone di pica E per pecador Di con Passo planta Mata Verdura Frutta Non por soffri Non por Duna Bida E non por Mori Nel lugar Di pecador Votei comi? Que men Cain Abai Encontra Di ordo di Dio Cain No amostra Fè Denge Messias Primenti Qual su tata Adam Abise O Dio Tambai Manda Messias Pa' libra Di pica E di morto E paduna Bida Eterno Cain Adisi Di mata Suruman Cain Amata Abai 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 Capitul Gesù Versiculo Uno Promet Aflag Nose Versiculo 1 Tego Quatre Ok Promet Nose Termina Hebreo Capitulo Gesù Versiculo Uno Tego Quatre che cosa fai e anche nostra mira con abel appone fai di una promessa di Dio che ti vissi a noi amè ok qui ci vissi a vedere con fai e la sicurezza e la sicurezza di quello che ci vissi a vedere ok qual è la nostra chiamata profecia profecia ti incumpli nostra spera arriva algo io si prometi la profetica nostra spera arriva ok e questa è convicciata questa è convicciata di lo che noi non por mira ancora però si noi tiene certezza di questa spera arriva lo che noi stai mirando nostra confia di una promessa di Dio amè versicolo 4 che ti vissi a noi par meglio di fe abel a ofrecer a Dio un millon sacrificio con carne che men abel tabata tenkiko fe tenkiko è profecia è è è è lo che di fe di fe abel a ofrecer a Dio un millon sacrificio con carne di qual era ottenere il testimonio che stava da gusto ora Dio ha una testimonio di su regalo e amè 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 abel amostra fe è cosa che è fe abel non mire messias sainda però la pone su confianza del messias che morì e entregà su vita a pe siendo un pecador amè amè o aca insurumano non pone fe di cose che andò al contrario ora che Dio ha rechazato su ofrenda non aceites ofrenda che ti va per donde picar lógicamente Dio non far aceites un ofrenda di di gratitud però se non to ofrenda picar non ti ho ti ho ofrenda picar adò ti ho ofrenda di gratitud che ma cain quera ofrecer algo contrario pa su picar l'an non non comprender che cain abira tambi è promed asesino di storia humana e su romano abira kiko è promed martir di storia umano ok so nostre mirato cu bible da bisa nos na juan 8 versículo 44 kame di susta bisa to can satanás qual tabata tata spiritual di descendiente di cain di cain n n n n n mata abel tata di cain tabata taten di abel spiritualmente non so come ne ad ad adam adam eva mir humana nam por amira nam por exprensia kuhopi dolore de nan propio yun mes e terribil konsekwense de konosemento di maldad dor dia des obedece dios so cain i abel tabata e promed dos representantes nan de descendencia nan spiritual bai 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 tabata ta e promed kuhapone sumes na banda de descendencia spiritual di colebra siendo satanás kumosu tata ok bo bai tambe mi tabi kwe pabu ponos po cera que text aqui de un juan 3 10 anto nosta mira ku abel tabata e promed kuhapone sumes na banda de descendencia spiritual jemue kwa tabira yu di dios es decir dios ta su tata espiritual e celestial ame ta pese iken kuhno acepta jesus kumosu salvador personal i senhor di su vida eta queda u diabel kumosu tata nota amita bise bai bata bisa kutana acepta cristo nostane poder pabira yunan di dios dor di biba pa jesus permaneciendo den ye et nostata celestial et eterno y soberano y creador di selio y terra la man y fuente nanti agua nosta cambia difamia paso ahora que nos ha vinciendo di adam judi adam calli y nos tingu vira judi adam u a cumpri que justicia perfecto di dios quarta cristo jesus romanos 5 dvisa dos adam tingu ok ahora pa nos po termina pa nos po termina che text un juan tres so tiene de visa ya mi te ayude dios pero si nos no acepta jesucristo como nos señores salvador personal y viva p nos tata de diable un juan tres ana versículo la nos le sa for di siete de diez quante personaje tinguina dos justicia justicia dios sota usto y practicando justicia considera come iu di dios amel i es un cun nota practica justicia bota practicando in justicia i es sa qui ama pica i bai bata di 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 text versículo ocho mi amas es un cun ta practica pica ta di 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 com pa sombra di 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 aparece pa e propósito pa propósito pa e hende pa e pa e destrui e obra ng di 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 destrui e destructor destrui obra ng di satanas e se i sus sabias tanto duna ami kubo poder ribadiable poder di bira yunan di 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 alto avet abisa versículo 9 mi un en de di 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 nota practica pica pasola nascedor di spiritu di 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 spiritu santo e spiritu santo permaneciendo dende no por sosod que person it vai seguir practica pica non ste il text bc ni un hende ku anase di 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 nota practica pica di con pa sombra su simia ta permanecer dende bota guarda ku reine 6 3 de 5 ta pade do simia si es simia quarta cristo attraves di spiritu santo obrando e bibando dembo beba tibisa lugo no sigi bibba dem pica a practica pica mi beba tibisa pa sombra su simia permanecer dende e e no por ha si pica di con pa sombra ela nasce di 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 amén mato kore su sabisa nicodemo kose pom esternance di no nicodemo dor di kiko agua e spiritu amén ma so te spiritu ta controla e deseo nan karnal koke i banos dem pica si versículo 10 so quante tata tibignan dos tata ok kare dos tata tibignan yunan di 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 bable ta bis anto yunan di 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 ab anto uu bat si hata konta si kono sena segun nos bable ta bis nos ok E' una di Dio e' una di Diablo T'acconosì E' una risulta di Matteo 6.2 e Matteo 7 E' una risulta di Matteo 6.7 E' una risulta di Matteo 6.7 e 8. Ok, capitex E' una risulta di Matteo 6.7 E' una risulta di Matteo 6.7 E' una risulta di Matteo 6.7 di nostra bici sia buona notte mia e sa qui possesso di solamente lo che Gesù avisa di Juan capítulo 1 versículo 10-2 Gesù avisa e maniera con amicubo per cambiare di famiglia sta con noi a acceptare Gesù come un salvador personal ma tu resta con ricevere con ricevere Cristo non è la duna derecho in a Ken James Virgin ed abisavo power poder di bira yunan di Dio es nanko ta kere den su nomber idòr di asia saqui kere den Esus kere ku e so po salva nos e ku porduna nos et poder derecho autoridad pa bira yunan di Dio et ta todo poderoso bec ti un acto tamico tingutum a lugare e dentro futuro non si te va a estudiar sei bautismo quizás si ainda bo no bautizar non si te va a estudiar patietrami te na pro ordo bautizar e unico maniera con xeluta aprobar junto kubo fe kubakere den Esus kubo biirayuna di Dio kubakere 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 romana da kubakere si bautim petisyon special awe nochi bo porpone se denge chat kaminda ana tabai ta rezando suplicando e rogando na Dio na e pa e peticionan aki antombra nos tabai abri espacio tambe awe ro espwes di orasjon pa asina ku bo porasi bo pregunta of boke comenta algo ribetema kubakere presenta bo por dunha e sei liberamente quizás un parte kubakere kubakere of algo kubakere kubakere comprendible pabo bo porasi bo pregunta obone bo remarche si pero non so bai de un palabra di orasjon no ana si ok non so bai de un palabra di orasjon che le asso bandi largo pero non stava da tim cu terminale stava datano a lugato terminale so flora ora voi cominciare a tor semano bot vengare una mit ar menta yes 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 tremendo tremendo na signor se gloria ok spera che romana apone nam peticion di orasjon ten chat nostra baireza ribesakinan avenochi paturestango da deseya di ta yunan verdadero di dios pa dios po cambian nos di famia e con nos che cana di justicia di luz quale jesucristo mi romana am ok ok nostra maria sa si nostra maria ser humana data santo data di amor no te di delante di trono sr data no ta sumamente agradecido pature tesoro nan ak kun nos a descubrir tengo palabras sr data no se ama budan que sr subo tu dios fiel y bien de amor no te conden nada pas y una que busca tesoro y abono permiten lo que nanta buscan y señor nos saco tengo oro más y diamante nan ten tesoro escondido aquí y abono va conducir nos pa coba dendje y llegar na máxima sabidoria y conocimiento espiritual amén sr señor paso esta que te deseo de nos corazonan nos que crees más y más de mo palabra pero señor nos pedivo que vitor saque na riba tabla de nos alma no nos de cana y vivan con nos mentes riba tur e belichona y promesa nalco towardando nos de gelo Fa un senore, su sabisa, lo mi vai e lo mi prepara, lo gana, den caso pa mitata pa vosso. Pessi, senore, ah, ue, senore, nos che, senore, di vai disfrutar di ecasna del celestial, come prepara pa nosso. Nos che, tam, miembro di emesa, co abolo prepara de gelo, pa nos, pa e sinta comiena di. Tata, nos che, pa vos visti, nos nos paña blanco e nos corona con piedra, nan, precioso. Pessi, senore, ah, ue, senore, nos che, amabu, tanque. Senore, pero no solamente pa nos por lesa e queda teginan, pero pa nos por ibatur e saquinan den practica. Oh, Tata, santo, laga, bo Espíritu Santo, guíanos. Láganos o re, a porta sensibola a su voz. Láganos o re, a porta sensibola a su voz. Tata, mostranos o re, a porta sensibola a su voz. Oh, senore, rompe a cana, ribebichon, kunos, erumangaiyan, elena waita hayyan, senore. Kunan, a cana ribe caminda, senore, natadeukabai, nam, adrelde caminda smal, senore. Nam, estera, ba, bo, senore, caminda, tata, biras mal, tata. Nam, estera, laga, tur, tur, cos, kai, pa, nam, por, a, sig, ribe caminda, em, tata. Dicei, senore, awenost, tam, be, laga, tur, tur, cos, kai, pa, nos por, sig, ribe caminda, de vida. E, ei, volta, batati, un buraco profundo, senore, ku, tur, cos, abai, kai, den, je. Tata, santo, laga, pa, nos por, perseverar, ribe caminda, aqui, tata. Pa, nos por, llega, máxima, cerca de vos, senore. Tata, santo, nos, ta, rogabo, perumanan, tam, co, a, pide, senore. Pa, salud, recupera, xon, de, salud, senore. Pa, nam, por, adaptar, nam, bida, ku, cristo, komo, nam, salvador, personal. Pero, tata, santo, nos, ta, pedibu, tam, pa, e, famiha, nam, e, roben, nam, tata. Ku, ti, mamma, ta, rogabo, pa, si, yu, mu, e, de, 10, 2, anja, ku, no, ke, ba, iglesia, mas. Tata, santo, nos, ta, pink, ke, o, ben, nam, di, nam, di, bo, trono, senore. Pa, su, tu, saco, e, o, ben, nam, ahi, te, pieza, pu, satanaz, ke, ata, kari, va, je, pa, ponen, nam, kai. I, pa, ponen, mam, nan, sufre. Pero, senyor, nos, no, ta, rindi. Nos, ta, queda, resa, de, fe, pa, cada, un, jo, ben, nam. Pa, cada, yuna, ku, ta, nas, e, yuna, de, a, barrica, nam, ku, ta, formando, senyor. Pa, biriba, e, cara, de, terra, aki, senyor. Tata, aboyama, cada, yuna, nan, nomber. Bo, amira, nan, demondogonde, na, mama, senyor. Pese, senyor, nos, ta, pedibu, pa, cada, un, jo, ben, nam, aki, senyor. Pa, bo, por, los, nan, ili, pera. Tu, re, cadena, nan, di, enemigo, putina, marra. Si, 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 si. Vita, casca, pur, din, awo, pa, nam, pum, mire, maldad. I, e, morto, eterno, pu, satanasta, preparando, pa, nan. O, tata, santo, tu, nan, nan, e, sentimento, di, humildad. Lago, po, espíritu, santo, ponen, amorde, nan, corazon, pa, nam, pum, busca, bo, caminda, e, pa, acepta, e, sus, e, pa, yabida, eterna, tata. Si, 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 si. Tata, nos, ta, bin, kutura, oben, nan, emu, enu, 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 emu, enu, bar, nan. E, ene, mayor, nan, kuta, sofre de un maleza. Kutinan, ata, na, kama, senyor. Tata, nos, ta, pedibu, ta, mi, senyor, pa, sabon, ma, milagroso. Pordonan, nan, picanan. I, sanan, nan, senyor, di, manera, un, sobrenatural. Kutinan, 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 no, ta, doktor, ni, ene, senyor, pero, kutinan, abo, ah, senyor, milagroso. I, pa, nam, por, abri, nan, corazon, e, adorabo, da, espiritu, de, verda. Tata, santo, tame, mi, ta, pedibu, oraxon, pa, roxel, robinho, anuara, di, el. Tata, pa, abo, po, dunanai, don di, arrepentimento, senyor. Pa, nam, por, asepta, cristo, viva pa, cristo, senyor. Tata, santo, tirumana, ta, pedibu, pa, liberaxon. O, si, senyor, tata, abo, senyor, mes, kutu, ora, e, oomber, e, demoniake, legion, amire, sus. Tata, ke, la, puntre, sus, abo, yu, di, di, dios. Kiko, ma, bingasi. Ah, e, la, pidi, senyor, pa, tiranan, de, porco. Ah, we, senyor, nos, da, pidibu, senyor. Saka, tur, e, demoyo, naki, e, tiranan, de, profundo, senyor. Laga, nam, vai, perece, de, oscuridad, ei. Pa, si, na, e, rumana, ko, ta, pidibu, liberaxon, por, viva, pa, adorabo. Pa, nam, porta, limba, de, spirite, de, badad. Pa, nam, por, viva, de, tur, pasco, abo, so, portuna, tata. Tata, tam, e, nos, da, pidibu, senyor. Pa, emama, de, nos, urmang, nena, nan, tabe, senyor. Tata, pa, bu, pu, fortalecer. Pa, bu, putunele, forza, de, processo, que, ta, pastando, tiyor. Pa, bu, man, riba, su, purpa, senyor. E, san, pa, bu, po, incultavo, mor, den, su, mente. Tata, pa, assine, e, po, viva, pa, abo, tata. Tata, santo, tam, e, nos, da, mira, kutin, rumana, ta, pidibu, pa, um, rumaniola, por, converti, di, awa, e, di, spirite, senyor. Oh, si, senyor. Ah, tipo, milagre, ver, rumana, aqui, que, outro rumana, ta, pidibu, senyor. Pa, e, po, converti, pe, po, nasce, di, novo, senyor. Tata, tam, pa, nos, rumana, reyber, po, ta, pidibu, pa, su, vida, espiritual, pa, su, famiha, nam, po, acepta, Cristo. Pa, su, mama, tam, senyor, su, salud, e, pa, mama, tam, po, acepta, Cristo, senyor. Pa, hildo, i, beya, su, salud, tata. Tata, santo, ta, pidibu, un, bendición, especial, pa, rumana, arginis, e, rumana, anita, tam, pa, nos, prosigui, escucha, em, di, mensaje, nan, aqui, tata. Tata, tam, e, nos, pedibu, un, oración, pa, marianela, e, su, yuna, tata, e, su, casa. Senyor, abu, sa, que, rumana, que, tem, este. També, senyor, nos, pedibu, un, oración, especial, pa, nos, rumana, Stephen, nos, rumana, papo, senyor, nos, rumana, villanela, nos, rumana, Janine, tata, nos, rumana, Jennifer, tata, cuta, den, e, parte, de, e, e, trabou, e, ministério, di, e, tres, angle, nan, e, tam, e, tu, re, ocher, nan, co, tam, e, da, yura, tra, e, e, perso, nan, co, ta, canta. O, tata, santo, ben, xo, na, perso, nan, aqui, nan, vida, grandemente, senhor, pa, nam, posigui, que, bom, obra, senhor, pa, nam, posigui, tan, na, candela, de, espírito, santo, pa, sigui, co, e, evangelho, eterno, pa, plame, rom, mundo. O, senhor, cuida, de, nos, um, man, Stephen, tam, su, casa, fortalece, o, bra, kit, tam, e, senhor, sigui, dote, com, espiritu, santo, nostru, man, argenis, tam, e, senhor, e, nos, urman, papu, tam, sigui, dote, nan, que, poder, de, mo, espiritu, santo, sigui, naga, pe, candela, de, espiritu, santo, tarriba, nan, vida, nan, senhor, pa, siguin, nan, posigui, vim, com, mensaje, nan, fuerte, uta, lan, ta, e, pueblo, na, dios, cu, quizaz, da, drum, e, ter, ronca, pero, senhor, abwe, nos, te, pedibu, lan, ta, nos, for, de, sonho, sacudin, no, senhor, pa, siguin, e, ora, po, ba, e, sefta, nos, por, queda, de, sefta, pa, nos, nom, na, por, queda, de, burro, tata, nos, agradecibo, pa, vo, amor, dan, ki, pa, escucha, nos, oración, e, senhor, nos, te, pedibu, queda, kun, nos, il, barresto, di, 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 lagu, an, ga, na, guardador, campanar, on, do, di, nos, casa, no, senhor, tata, e, cuida, nos, di, tu, reflecha, nan, intern, che, malige, tata, nos, te, amabu, dan, ki, q, aba, tun, a, nos, poder, pa, vira, di, 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 di,' di, 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 tata, salto, nos, te, amabu, dan, ki, tur, glori, tur, u, norn, i, dar, ki, pa, escucha, nos, oración, da, tu, ló, que, nos, ta, pide, denne amoroso nome, glorioso nome di nostro Salvador, Cristo Jesus Amen e Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Amen, Gloria Jesus Ok, Ok